Io sono ovviamente molto soddisfatto e emozionato di questa situazione, non mi aspettavo una lincita così importante, vuol dire che devo dire grazie ai garraschesi. Grazie a Garlasco, spero di non dover deludere nessuno, ma impegnarmi fino in fondo per far crescere questa città. In parte sono convinto di potercela fare, non sarà semplicissimo, ma ce la proverò, ci metterò testa e cuore per poter dare tanto a questa Garlasco, quindi grazie davvero ai garraschesi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.